strisciante tra Conte e Di Maio, che è una competizione nei fatti politica anche interna che riguarda anche la leadership del Movimento 5 Stelle, le future leadership di un'eventuale federazione più ampia, una coalizione di maggioranza più ampia. In realtà poi il tentativo di Di Maio ieri di distanziarsi sul documento firmato al Cairo era anche un assist al Premier Conte perché era un ritorno alla difesa di Al Serraggi e quindi un tentativo di prendere le distanze da quella che era sembrata una sponda netta anche italiana ad Haftar. Quello che abbiamo definito anche noi una clamorosa gaffe diplomatica rivela che forse Conte voleva intestarsi la possibile tregua, che era poi quella invocata da Putin e da Erdogan insieme nell'incontro, una tregua fino a domenica. Quindi probabilmente il Premier voleva intestare all'Italia la possibilità di arrivare a un cessate il fuoco almeno temporaneo. Oggi c'è il fatto quotidiano che è l'unico giornale che parla addirittura di un inserimento da parte della Francia in questa fase e che sostanzialmente le mosse di Conte hanno fatto sì che dall'altra parte invece Macron abbia da questo punto di vista, ripeto l'unico giornale che parla insomma di questa cosa, abbia bloccato questa operazione. Vado da Francesco Borgonovo invece... La Francia non è in contatto con Serraggi, non capisco questa deduzione. No, no, io lo citavo però ovviamente perché è la polvere che si alza in questo caso. Invece vado da Borgonovo.